Intanto invece ci godiamo la lezione di oggi. Allora, Walter Lazzarin è uno scrittore, lui si definisce uno scrittore per strada, e uno che gira le piazze con una vecchia lettera 32, Olivetti, regalando tautogrammi ai passanti. C'è molto colpito questa notizia, intanto perché vorremmo che ci spiegassi che cos'è un tautogramma. Sì, questo lo spieghiamo subito, se no poi non si capisce nemmeno che cos'è. Viene dal greco, to, auto e gramma. Sono le due parti, to, auto significa lo stesso, no? Questa è la parola in greco, quindi significa, scusa, questa è la lettera in greco, cioè significa che bisogna fare una composizione piccola o lunga che sia, poema, poemetto, quello che vuoi, con tutte parole che iniziano con la stessa lettera. Per esempio, l'esempio classico è quello di Cesare, la battaglia di Zela, cosa dice Cesare? Vieni, vidi, vici, tre vici. E addirittura non ha anche la stessa lunghezza. No, non c'è bisogno della stessa lunghezza, ci sono addirittura composizioni di 150, 146 versi, tutti con parole che iniziano con una stessa lettera. Guarda che il tautogramma non è un scherzetto, è un gioco, è un divertisman, quello che vuoi tu. I latini lo usavano poco, l'unico che mi ricordo in greco è questo, bion, mi viene sempre da scrivere in greco. Ma puoi anche farlo, eh. Bion, beh, poi c'è batzus, bio, vedi che sono tre b? Sì, b, 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 b. Ed è lo pseudo senofonte, e si vive una vita durissima, insomma. Però i latini e i greci non ne avevano. A parte una bellissima scritta che vedete tutti quanti, ed è di Ennio, il poeta Ennio. Che quasi non sciogli lingua. Sembrano sciogli lingua, ma è bellissima anche da dire. «Otite tutte tante tibitante tiranne turisti». Ancora, se li provate tre volte di fila. Eh, l'ha fatto apposta, Ennio. È Romolo che parla di Tito Tazio. Che è il corè, non come Carlo III. Il Carlo III è solo. Dopo il ratto delle sabine, c'è l'incontro. E gli dice, pò, Tito Tazio, tu puoi tirare il tirano, ne subite di tutti i colori. Però, in realtà, è il medioevo, l'epoca straordinaria del tautogramma. Che, tra l'altro, è un fatto di cultura. Non è soltanto... È di divertimento, è anche di cultura, perché l'hanno elaborata persone come... Adesso dico dei nomi. Addirittura Polinera ha cominciato. Poi, che no, Pennac, Calvino. Fino Umberto. Fino Umberto, ecco, che oltretutto ha scritto tutta un'opera insieme ai suoi allievi, con la P, dedicata a Pinocchio. Con tutte le lettere che ricordavano. Con tutte le lettere. La sinosse di Pinocchio con la P. sono messe tutte una dopo l'altra. E molte scuole si fa, eh. Molte scuole si fa questo gioco. E fanno fare anche a me, dai. Fammi fare un giochino. Te lo faccio fare. Un po' che non giochiamo. Te lo ho preparato. Te lo ho preparato. Te lo ho preparato. O mio giorno, tutti questi no. No, te ne faccio due o tre. Allora. Questi sono politici italiani. Ah. Allora, questo qui chi sarà? Sembra. Sembra. Salvatrice. Salvatrice, sinistra e sofferente. E gli Schlein. Ah, con la S anche perché... Con la S deve essere uguale, no? Quindi Schlein. Sì, sì, lo dico, ma anche la soluzione è con la S. No, no. Ah, no, quello vuol dire... È un caso, che sia S. Allora, pensavo. Poi? Questo? Pinocchio passato per una donna. Pinocchio passato per una donna. Calenda, Renzi. Ah, sei vicino, uno dei due. Renzi. Renzi. Calenda era questo. Ah, per Pinocchio perché è il Toscano. Calenda era questo. Dotto distributore di dogmi. Questo è Calenda. Tu non dì. Beh, vediamo un po', questo chi è? Meno migranti, meno malfattori. Se poi seguo una lunga lista, migranti, malfattori... Non puoi dare avanti quanto vuoi. Poi, poi, donna demoniante, democrazia dolente, sarà Meloni. Sì, però qui sono stato un po' cattivo, eh. Democrazia dolente. Invece, prode pacifista, pluriuso politico. E quello? Prode pacifista. Prode non c'è niente, prodi. Prode, adesso è anche picchiato pacifista. Ah, Conte. Eh sì. Ah, pluriuso politico perché è stato... Sì, perché ha fatto tanti governi. Ok. Questo è il gioco. Hai capito? Penso che si può fare. Ok. Sono andato alla campanella.